Le casse del comune di Pescara sono in difficoltà. Era stato l'allarme lanciato dal sindaco Marco Alessandrini in campagna elettorale. Una volta eletto poi la conferma delle sue preoccupazioni, la presentazione dei conti del comune, casse in attesa di riscuotere cittadini morosi e spese da tenere in piedi. Esce poi in questi giorni la notizia che a seguito di dichiarazioni di assenza di liquidità nelle casse in comune è pronto ad assumere invece a tempo indeterminato e con stipendi in chiaro, cifra per cifra, ben 32 persone. Un controsenso che potrebbe suonare anche come un autogol della giunta Alessandrini che fin qui aveva predicato parsimonia e programmaticità delle spese. Ecco dunque messi in chiaro i come e i perché della vicenda. Trovo veramente meraviglia leggere questa notizia, è come se si trattasse di chissà quale scoop giornalistico. Si tratta in effetti di una normale e di un normale piano assunzionale previsto in tre anni varato dalla precedente amministrazione che abbiamo solo ed esclusivamente confermato. Un piano assunzionale che tiene conto della spending review e quindi soltanto in parte copre le dismissioni per pensionamento dell'anno precedente. Le assunzioni arrivano come un passaggio di testimone tra giunta Masce e giunta Alessandrini. Spese già messe in bilancio da tempo, professionalità che vanno a sostituire i posti liberati da pensionamenti e figure indispensabili al funzionamento della macchina comunale. Anche se, spiega del vecchio, in realtà le figure necessarie sarebbero ben superiori alle 32 messe in bilancio. È un piano assunzionale che non mostra nessun significato segno rilevante, anzi, dobbiamo dire che secondo la struttura comunale insomma sono largamente insufficienti, ma sono quelli solo ed esclusivamente possibili con le finanze che il Comune ha a disposizione. Peraltro, voglio dire, sono finanze già predisposte nel bilancio precedente da parte dell'amministrazione e quindi non c'è nulla di eclatante da dover far sobalzare sulla sedia qualcuno.